Ciao a tutti, sappiamo bene come l'aromaterapia e la cromoterapia oggigiorno sono molto in voga ma soprattutto utili per curare diciamo tante tra virgolette malattie quindi ci aiutano a rilassarci e a creare nei nostri ambienti un'atmosfera molto più particolare e più rilassante appunto quindi ho deciso di acquistare questo diffusore umidificatore che arriva dalla GRDE devo dire che è molto compatto semplice nel design ma al contempo è veramente bellissimo come vedete io già l'ho acceso ci arriva nel suo cartone nella sua confezione di cartone molto spartana all'interno troviamo appunto il diffusore troviamo il cavetto usb per poterlo ricaricare e il contenitore dell'acqua con cui potremo andare a riempire al suo interno quindi abbiamo la possibilità di usarlo come umidificatore aggiungendo solo acqua mentre aggiungendo all'acqua qualche goccia di olio essenziale potremo utilizzarlo come diffusore per ambiente vi faccio vedere praticamente com'è che funziona all'interno va messa dell'acqua quando abbiamo messo l'acqua al suo interno attacchiamo il cavetto usb e andremo a farlo funzionare in questo caso ci sono due bottoni però ci sono dei pulsanti touch sulla parte frontale che ci permetteranno quindi di usufruire delle sue funzioni il primo pulsante c'è scritto rgb e serve per cambiare far cambiare diciamo colore o fissare un colore che diciamo ci piace di più quindi in questo momento è sul colore viola ma cliccando di nuovo avremo la possibilità di farlo cambiare verde giallo celeste bianco quindi può essere utilizzata anche come semplice lampada perché diciamo le funzioni sono indipendenti il diffusore dalla lampada quindi un duplice utilizzo o meglio un triplice utilizzo per un prodotto così piccolo compatto ma molto bello l'altro pulsante invece ha la possibilità di farci da diciamo mettere in funzione il diffusore quindi abbiamo la nebbia diciamo accennata cliccando un'altra volta avremo una nebbia continua che ci permetterà quindi di umidificare o profumare i nostri ambienti il costo lo trovo buono paragonato alla qualità del prodotto e alla sua efficienza ottimo anche per fare un regalo ad amici magari quando siamo ospiti a casa e quindi fare una sorpresa con un oggettino così molto particolare originale quindi ve lo consiglio ciao grazie a tutti